Amici di Battista 70 Fon buongiorno oggi vi voglio far vedere queste bellissime cuffie si chiamano Arker AH7 si trovano su ebay adesso ad un costo di sono scontate a 69 euro si trovano su Amazon non su ebay ma originariamente costano 129 euro e devo dire che li valgono tutte sono delle cuffie che possono funzionare sia bluetooth e dopo lo sentiremo qui il mio s7 age poi vi farò sentire come funzionano che anche con un normalissimo cavo jack da 3,5 a 3,5 che si infila tranquillamente qui sotto qui sotto come vedete c'è ingresso micro usb e jack micro usb serve per collegarlo al computer e ricaricarlo devo dire che a livello ergonomico sono molto comode calzano veramente bene sopra qui è morbido per cui quando le andate a mettere che avete magari pochi capelli come me l'appoggiate non mi dà nessun fastidio e anche il padiglione auricolare rimane dentro bene cliccando questo tasto parte direttamente la musica sentite schiacciando qui andate a spegnere oppure sotto ci sono i tastini tramite il quale tenendo premuto potete avanzare e indietreggiare con il brano queste cuffie hanno anche un microfono incorporato per cui se vi arriva una telefonata sempre col tastino con cui fate partire e fermare la musica cliccate e potete rispondere tranquillamente al telefono devo dire che sono fatte molto molto bene il pairing è immediato si tiene premuto il tasto per 5 secondi quando si vanno ad accendere e si sincronizza tranquillamente col telefono io l'ho sincronizzata anche col mio iMac che è dotato di bluetooth e devo dire che funzionano decisamente bene vediamo qualche dettaglio tecnico il bluetooth versione 4.0 talk time e comunque anche tempo di ascolto in musica sono ben 14 ore scusate 14 euro sarebbe un po' poco stand by time ben 540 ore hanno un peso di circa 220 grammi sono pesantucce però una volta che le mettete in testa devo dire che calzano benissimo e il peso non si sente assolutamente ovviamente si può allungare ad accorciare qui a seconda del testone che avete se avete un testone particolarmente grosso potete tranquillamente allargarle altrimenti anche così le potete mettere e calzano alla perfezione guardate sinceramente le ho sentite anche con dei brani abbastanza pompati sapete che ascolto musica heavy metal e devo dire che si sentono decisamente bene non non hanno adesso spostiamo i brani sentite devo dire che hanno veramente un'ottima qualità io mi sono sentito qualche brano qui mattinata e ieri in cuffia e devo dire che è una soddisfazione aspettate sentite e vi assicuro che quando le avete indosso la musica si sente davvero bene non spara non è fastidiosa come vedete le potete mettere anche tranquillamente al collo senza nessun tipo di problema poi dopo nel box nella descrizione vi metto sia il link per l'acquisto che anche il codice per lo sconto perché il nostro fornitore chi le vende ci ha concesso anche un codice per scontato che vale fino a mi sembra la fine di maggio la fine di giugno quindi vi dico sinceramente approfittatene approfittatene io mi sto trovando davvero bene con questo concluso un saluto da loris agli as battista 70 per battista 70 phone e le cuffie arker grazie a tutti